Lacune strutturali ben note dall'inizio del campionato, adesso è vero si rischia molto meno per il resto però la squadra fa parecchia fatica. Contro l'Entella l'Adriatico, Scialbo pareggio 0-0, ripresa da dimenticare, non può essere minimamente colpa o demerito di Cascione. Pescara sotto ritmo macchinoso con il classico freno a mano tirato diventa poi tutto più difficile se la palla non viene mossa velocemente se i compagni vicini non ti danno soluzioni creando spazi e barchi. Cascione sta lavorando tanto sulla compattezza, adesso come detto si rischia molto meno una sola rete incassata su calcio piazzato negli ultimi tre incontri. Senza dubbio una notizia, ma serve più intraprendenza, più sfrontatezza. La classica coperta corta, un solo gol realizzato in queste tre gare, nove nelle ultime undici. In un girone di ritorno da media play-out, 17 punti in 16 giornate. Si diceva dei limiti, in realtà noti come più volte sottolineato dall'inizio della stagione. Rosa ha assemblata male, specie a centrocampo con giocatori adattati e non di ruolo. In attacco poi è stato ceduto un giocatore come l'Escano lo scorso anno 20 gol senza rimpiazzarlo adeguatamente. L'ex capitano Biancazzurro è subentrato da appena tre settimane, ha subito sistemato la fase di non possesso. Sta cercando di salvare il salvabile, ma con il poco tempo a disposizione, di certo non può fare miracoli.